Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andralink e benvenuti nel nono capitolo di Nazoom Eleven 2 Randomizer. Ci siamo ragazzi, penultimo capitolo... Chissà cosa si farà oggi e non la sfida contro la Genesis. Sì signore, ora i nostri piani dovrebbero procedere come previsto, ma secondo me Wiles ha qualche piano segreto. Ecco, hanno perfezionato, bravo, era ora, addirittura, addirittura, era ora, come ti permetti? Sì, quindi hanno intenzione di distruggere tutto con quella tecnica? Che significa? Dobbiamo organizzarci prima di dare inizio all'operazione. Porta qui Torce e Gazelle, non possono fare ciò che vogliono in un momento del genere. Ebbene, prenderemo d'assalto il quartier generale dell'Hilius Academy. E' la foresta del Montefugi, che è un luogo ideale per nascondere una base. Sì, essendo che è pieno di sentieri, viuzze, è un vero labirinto. Bene ragazzi, cerchiamo la strada, sarà facilissimo, basta andare sempre dritto, prendendola prima a destra e poi sempre in alto, sempre in alto. Eccoci qua, siamo arrivati ai tronchi, ragazzi, quando volete, eh? Paravi. Ora con la super forza, super potenza... Ah, niente animazione, costava troppo fare l'animazione di loro che spostavano i tronchi uno per uno, giustamente. Oh, attenzione, momento topico perché... Futius vuole parlare con King, con Shona King. E dice, guarda, ma sai, Mark mi ha detto di Aiden e di te, e ti ricordi quella volta che mi ha detto che volevi vedere la vera potenza del cannoniere della Raimon? Beh, ora lo vedrai. Oshona dice, no, non so più giocare a calcio, io devo essere perfetta in campo, devo aiutare i miei compagni. E Futius gli fa, guarda che tu non sei sola, anch'io una volta non ero forte, non volevo più giocare a calcio, ma era una scusa, usavo la mia sorellina come una scusa per non giocare più. Comunque poi riesce a capire che in realtà non è mai stata sola, tutta la squadra della Raimon è amica. E quindi riesce a liberarsi, appunto, di questo Aiden, dell'entità di Aiden che in realtà era sempre lei, che però pensava ci fosse fratello dentro di lei, ma in realtà non c'era. Era lei che se lo immaginava e che quindi riusciva comunque a eseguire la tormenta glaciale. Shona, quale personaggio diventerà perché Shona King, o meglio, lei non è proprio Shona, però io la chiamo Shona perché è gioco di ruolo. È così. Aiden era Chess e adesso chi diventa lei? Ovviamente io li chiamo con i loro nomi che conosciamo tutti, ma il cognome uso quello che hanno qui in grafica. Clover. Quindi Sean Clover. Ora è maschio. È ora di fare lotta verso il laboratorio dei signori delle stelle. Cioè, si chiama Laboratorio dei signori delle stelle. Ma quando io mi immagino Astram che va a fare il contratto, no? Per la ditta, ok, tutto quanto chiaro, qui la ditta. Ma, il signor Shidler, come lo chiamiamo la ditta? Ho un nome che non ti puoi immaginare. No, dica, dica. Laboratorio dei signori delle stelle. Troppo bravo, troppo bravo. Ecco perché lei è il capo, signor Shidler. Tu nella vita vera prova a fare una società che si chiama Laboratorio dei signori delle stelle. Ti guardano male. Magari te lo fanno fare, però ti guardano male. Ma che cavolo stai dicendo? Andiamo un po' a sto laboratorio, dai. Eccolo qua. Io, io, non ho parole. Per forza è un videogame. Va bene, tutti non mi vanno bene. Vediamo un po' sto postaccio. Ecco, tra l'altro, come... I permessi per fare una cosa del genere. Sto coso è abusivo. Non può essere vero. È abusivo. Non può esistere. Già, è arrivato il momento della resa dei conti. Forza, dobbiamo entrare. Sì. Un momento. Allenatore Hillman. Sono convinto che ci sia un traditore tra di noi. Cosa vuole dire? Dopo interminabili ricerche, ho scoperto la verità sull'Alius. Stavate per finire dritti in una trappola. E la responsabile è lei! La malafemma! No, sapevo io che era lei. Era troppo perfettina per essere una semplice allenatrice, no? Vedi come va vestita? Con la giacchetta, la maglietta, il pantaloncino, la scarpina tattica. Ma chi la vuole avere? Alina. Aquirina Schiller. Lei è la figlia di Astram Schiller. No, non è vero. Astram Schiller è l'uomo in combutta con l'Alius. No, non è che è l'uomo in combutta con l'Alius. Lui è la mente di troll L'Alius. Cosa sta tramandolina? Perché è diventata allenatrice della Raimon? Per rovesciare l'Alius. Scommetto. Ora lo dice. Il mio unico obiettivo era sconfiggere l'Alius. Ma sarà vero? Lo giuro. Io la sottoporrei alla macchina della verità per accertamenti. Ah, ma Celia le crede? Però, allora, è solo Celia. Se Mark non dice nulla, è fatta. Se Mark dice che non le crede, possiamo ancora salvarci. Mark, ci stai cacciando in un brutto guaio, eh? Va bene. Diciamo che magari hai ragione. Ma se quando andiamo a combattere la Genesis, lei si rivela una doppio giochista, ti taglio le treccine, Mark. Stai attento. Che poi, cioè, la strada, no? Eccola, la vedete? Cioè, come fai a costruire un qualcosa su una strada del genere, anche fosse? Partendo dal presupposto che è abusivo e quella forma non esisterebbe mai? I materiali. I materiali. Che poi, quelle luci, cosa dovrebbero rappresentarmi? Le stelle? Tutto un imbroglio. Che poi, quei fari puntati lì, le macchine non hanno quei fari in quella maniera, dai. Hanno i fari che puntano metri e metri più avanti, a voglia di... Che autobus è degli anni 50? Ah, eccoci qua. Cioè, questo qui è l'atrio. Ah no, parcheggio. Ma come parcheggio? Chi ci parcheggia qua dentro? Ah, è tutto per l'autobus. Che poi come l'hanno messo in quella posizione per obbligo, che non c'è spazio. Mamma mia. Com'è possibile che nessuno l'ha notato? È fatto... È uno stealth, praticamente. È un jet stealth, ha la stessa composizione. Però quando ti avvicini lo vedi. Da lontano no, ma da vicino sì. Ma c'è anche il detective Smith, che è venuto a fare più detective da solo poi. Abbiamo ottenuto il mandato di perquisizione della residenza di Astram Schiller. Cioè, questa è la residenza anche. Ah, non l'abbiamo preso perché si trova qui. Eh, giustamente. Dovrebbe essere qui, sì. Ragazzi, penetriamo nella base. La base in realtà è molto particolare. Ci sono trappole disseminate ovunque. O più meglio, più che trappole, sono incontri con le altre squadre e non ci fanno passare perché... Perché dobbiamo vincere, sostanzialmente. E ci sono delle trappole, delle barriere laser che dobbiamo disattivare con delle carte apposite. Carte magnetiche, non carte di Pokémon, ok? Perché di questi tempi non si sa mai. Però, per farvi avere un'idea di quello che bisogna fare, carta magnetica numero uno. Per fortuna ho fatto Keep Important Item, altrimenti andava a finire molto male. Mi sa che la randomizer finiva qui. Eccolo qua. Questa è la barriera, bisogna disattivarla, farlo per altre due stanze. Ed è fatta. Mmm, ragazzi, siamo arrivati, eh. Eccoci qua. Questa porta non necessita di una chiave, o meglio, di una carta di sicurezza. Ma deve essere aperta tramite un codice. E a quanto pare Lina l'ha sbloccata. Entra nel laboratorio dove tutto è iniziato. Con piacere. Eccolo qua. Ragazzi, qui è dove tutto ha avuto inizio. Mac, guarda! Yeah! Cosa diamine è quella? Una pietra enorme, che risplende di rosa. È meravigliosa. Non toccare la pietra! La pietra alimenta l'intera base. È da questa che traggondò la loro forza. Si schiantò sulla terra cinque anni fa. Fu ribattezzata la pietra di Alius. Il suo bagliore è a guarda a quello del ciondolo che indossava il ragazzo rapito da quelli dell'Absolute. Iniziate a capire, no? Quindi se riusciremo a interrompere il flusso di energia emanato dalla pietra? Precisamente. Sarete in grado di ridurre le capacità della Genesis. Da qualche parte deve esserci un'unità di controllo che gestisce l'erogazione dell'energia della pietra. Quindi bisogna trovare il congegno che alimenta la pietra e bloccarlo. Ok. Ah, però c'è sistema di sicurezza. E quindi ora dobbiamo combattere contro dei robot, tipo? Ah sì, più o meno. Ma sono robot con teste. Una partita qui, proprio? Ok. Facciamolo. Ragazzi, 6 a 0 contro i robot guardiani. Punti appalate, punti appalate. Ma dobbiamo spegnerlo manualmente, il generatore. Però vabbè. Comunque sì, è fatta. Quindi interrompendo il flusso di energia, la potenza della Genesis dovrebbe diminuire drasticamente? Facciamolo. Quindi adesso non ci resta a fare altro che andare a sconfiggere la Genesis. Attenzione però, chi è? Ma, ma è Xin. Sapevo che ce l'avresti fatta, Mark. Sì, no, Xavier. A quanto pare Torce e Gazella se la sono filata. Ne della Genesis siamo tutto ciò che rimane dal nostro padre. Non è vero, sorella? Sorella? L'allenatrice è tua sorella? Non abbiamo un legame di sangue, ma sì. Tutti noi dell'Alius Academy siamo orfani. Vivevamo nella Sunshine Academy, l'orfanotrofio fondato da nostro padre. Ma attenzione. Ah, è quella che fa bella, Trix. Il nostro padre ci aspetta. Forza, dobbiamo prepararci. Dobbiamo rimettere questi miserabili a proprio posto. A presto, Mark. Ti aspettiamo al piano superiore. Perfetto, siamo arrivati. Usiamo l'ultima tessera che abbiamo trovato. E il sistema è stato disattivato. Ci siamo. Andiamo, forti e potenti per la sfida finale. Vediamo poi il bel campo da calcio. Ah, con anche le telecamere. Si parla dovrebbero spostarsi dall'in mezzo. Già che lo spazio è piccolo. Se poi ci metti pure quelle telecamere giganti. Magari a bordo campo. Magari, eh. Cari amici del governo giapponese. Vi prego di perdonare il ritardo. Mentale. Padre. Ebbene, permettetemi di presentarvi le nostre ultime creazioni. Lo stadio più avanzato delle armi del gruppo Schiller. Degli esemplari insuperati di guerrieri. La Genesis. Sono molto più potenti di qualsiasi altra squadra dell'Alius. Ma sono dei giocatori da calcio. Cioè, perché? Trasmetteranno in mondo visione la sfida. No, veramente solo in Giappone. Perché, vabbè. Però... Ci faranno capire... Vogliono far capire che la Raymond Eleven non può nulla contro una squadra di superumani. E... Noi, invece, faremo vedere che ha torto. E vinceremo distruggendolo. Lasciamoci sotto, dai. La partita per... Per la salvezza del mondo. Come la vogliamo chiamare. Andiamo, vai. Vediamo un po' chi andrà loro in campo. Gente che non... Beh, sempre quelli dell'altra volta, comunque. Non è che cambiano molto. Tra l'altro... Oddio, hanno solo il livello alto. Non è che sono tanto forti alla fine, eh. Tanto più forti di noi. Beh, sì. Parte... Capitano. Beh, cominciamo. Andrei di iniziare con Fucius che va subito in attacco. Ok. Sì, perfetto. No, dai. Che palle quando la bloccano così mi dà un fasti. Ma dai! Era lì, era. Come ha fatto a mancarlo? Ecco, sprint for minion. Ci mancava. Ci voleva. Però almeno si consumano i punti. che devo fare. Ecco, cominciamo malissimo. Mano insuperabile. No, mano del colosso. Beh, bene. Non para. Non para tanto. Non ce la fa. Scommette che non ce la fa? Tu sta a vedere. Sì, sì. Mano del colosso. Ovviamente. Dovreste vergognarvi. Sì. Mi vergogno, credimi. La potenza di quel tiro. Eh, già. Hai capito che nonostante abbiamo disattivato il congegno, il tiro non ha perso di potenza. E sai perché, Lina? Non lo sai? Te l'ho detto prima, perché sono proprio forti loro. Non è che attingevano la forza dalla pietra di Alius. Se vuol te lo ripeto ancora una volta. Basta che poi lo capisci perché non c'è a certo punto. Ah, questo potrei bloccarlo tranquillamente. Sì, grande. La simboliata micidiale. Ok, ok, ok. Ok, ci siamo. Richiamo del lupo. Chissà se riusciamo a fare gol. Perché questa è scriptata. Quindi dovrebbe essere gol. O sono ancora più forti dell'ultima volta. Cioè, l'ultima volta. Insomma, di sempre. La rete impenetrabile è tostra a buttare giù. Eh, già. Ha fermato il nostro tiro. Forza, vi concederò un'altra opportunità. Cosa ha buttato via la palla? No, l'ha passata a Mark. Ha del fegato? Molto bene. Facciamogli vedere la zona micidiale 2. Hmm. Eh, questo è gol, dai. Cioè. È palese che è gol. No? Dai. Vediamo un po' se riasciappararla. Non ce la fa, non ce la fa. Oh, cavoli. È un po' forte sto tizio, eh. Ecco. Allora. La Genesis non sembra avere per niente perso la propria potenza. Ecco. Vedi, ce lo sta dicendo. La Genesis non è alimentata dall'energia della pietra di Alius. Sono stati addestrati secondo il programma soldato supremo fin dall'infanzia. Sono dotati di poteri straordinari. Nessun trucchetto. Potenza pura. Attenzione. Tocca. Axavier, ma c'è qualcun altro in porta. Guardate la sua gamba destra. Sembra illuminarsi. Sta accumulando una grande quantità di energia. Mark confida in me per proteggere la porta della Raymond. Anche senza la mano insuperabile. Non posso arrendermi senza nemmeno provare. Vediamo se riesce a fermare questo. Meteora di rompente. Mano del colosso. Ma perché mano del colosso? Ci fa il 2-0 in questa maniera. Dai. No. Come recuperiamo? Oppure la fermiamo? Wow. Potenza allucinante. Bravo. Bravo, Darren. Bravissimo. Ok. Ok. Oh, cavoli. Ah. Oh, no. Che cosa fanno? La supernova! Darren. Devi impararla assolutamente, tesoro Darren. Ti prego. Lo so che... Lo sai che io ti odio. Però se questa la pari ti dico bravo. Ma solo una volta. Perché comunque se ti odio, lo sai. Darren, scappa. Eccolo. Guardatelo. Si è illuminato d'immenso. Fatevi sotto Genesis. Questa è la mia mano insuperabile. Vediamo un po' se ce la fa. Ok. Il mostro dalle diecimila mani. Bene. La perfezionata. La più potente delle megatecniche. Sì. La più potente era la mano del colosso. Ora è la mano insuperabile. Praticamente divertendosi è riuscito a realizzare la mano insuperabile. Complimenti. Di nuovo quella luce. È così calda. Così brillante. Ora mi sento più forte che mai. I nostri cuori. Riesco a sentire ciascuno di voi tutto intorno a me. Mark potrebbe essere il momento. Siamo pronti per realizzare il tiro più potente del nonno. L'energia della terra. Mark. Axel. Sean. Sarete voi tre a tirare. L'energia della terra. È la nostra ultima speranza. Sì allenatrice. Forza ragazzi. Facciamogli vedere quanto siamo forti tutti insieme. Questo è gol. Questo è gol. Consumati i punti maledetto. Consumati i punti. Perché non si consuma i punti quel maledetto? Come faccio a fargli gol? E abbiamo segnato sì ma non si consuma i punti. Come faccio a fargli altri gol? Se tanto è scriptate per farci perdere a che cosa serve? Eh? Attenzione. Astram vuole che disattivino gli inibitori. Significherebbe sprigionare la vostra potenza al 100%. A quel punto annientare la Raymond sarebbe una pura formalità. Ma se lo facciamo i nostri corpi potrebbero non essere in grado di reggere l'impatto. Sei stato tu a dirci di non disattivarli per non farci male. Se non sconfiggiamo la Raymond ora tutti i nostri sforzi saranno stati vani. Dato che Xavier non sembra all'altezza di suo doveri prenderò io il suo posto padre. E vabbè. Genesis! Ascoltatemi bene! Vi impartisco il mio primo? Ordine in qualità di Capitano! Disattivate gli inibitori! Eccolo qua. Xavier mi è deluso. È ora di tornare in campo a portare a compimento il progetto Genesis. Ma che succede? Perché Capitano e Bellatrix? Stavo a dimò! La Genesis ha ripristinato tutti i punti energia e i punti potenza. Io se invece vado a fare menu oggetti... Non posso farlo. Grazie gioco. E ora? Devo andare in furore per provare a fare gol. E mi sa. Ecco. Iniziamo bene. Grazie Bellatrix. Tu sei una bravissima ragazza. Cara e gentile. O forse no. Oh! Arbitro venduto! Bene. Blocchiamoli. Ma questo è un cervo. Non può giocare. È un cervo. Ma dove? Mannaggia. Guarda eh. Se non mi incazzo ora. Mamma mia. È un po' dritta. Andrà un po' dritta ma dovrebbe comunque riuscire a entrare in porta. Se tutto va bene. No. La blocca... Maledetto! È tiro indebolito. E ci credo che è tiro indebolito. Tormenta di fuoco. Mica cotica. Accidenti. Eh grazie che la blocchi. È indebolito. Ma come è notevole. È indebolito il tiro ovvio che è notevole. Ma perché non mi sono stato fermo? Quella era rubata. Attenzione però. Attenzione. Attenzione. Ok. Ok. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Ok. È buona? Ragazzi. Zanna mi ci dà le due. Andiamo a segnare il secondo gol. Dai. Dai che ce la facciamo. Pizzica l'occhio. Ok. Ci siamo. Ci siamo. A mamma di te. No. Niente da fare. Però c'è ancora Fucius che ha un'altra tormenta di fuoco. Ma perché non riesco a bloccarle quando sono in parallelo? Allora. Più che parallelo perpendicolare. Danza del fuego! Vedi? Qui è bravo perché fa danza del fuego. E ora? Con la danza del fuego. Ok. Allora. Da qui te la rifaccio eh. Ora. Potrebbe fare un'altra rete impenetrabile il bambino? Cavolo. Spero di no. Ah. Che palle. Aspetta. Aspetta. Menù. Sì. E vabbè però. Amico mio. Se ti intrometti così però. Ecco. Furore. Ora ci siamo. Potrebbe cambiare tutto. Potrebbe cambiare eh. Ma tu mi servi qua su perché hai il tiro. Quindi c'era ancora uno con Jude Lab eh. Eh dai avevo premuto. Mannaggia. Avevo premuto per passarla e non me l'ha passata. Certo che l'emulatore in confronto al DS funziona peggio. Ok ci siamo. Non mi deludere. Onde inarrestabile. Onde inarrestabile. Questo è gol ragazzi. Deve essere assolutamente gol. Per forza. Siamo in furore. Sì. E vai. E vai. Voi non avete idea. Della difficoltà che è segnare. Con questi personaggi. Perché tu dici. Ah vabbè finché c'è il gioco normale. Sono forti i personaggi. Ma questi qui. Anche hanno le stesse statistiche. Dei personaggi che avresti normalmente. Sono più deboli. Sono dei personaggi giocabili. Deboli. Rispetto. A un Mark normale. A un Axel normale. Abbiamo vinto ragazzi. Abbiamo sconfitto la Genesis. Ora tutto il mondo. Si inchinerà. Alla potenza della Raymond. E quindi venderemo noi le armi. Iniziamo a produrre. Sì. Dacci qualche mese che iniziamo a produrre le armi. Ok. Bellatrix. I miei piani sono falliti. Padre io. Ci ho provato. Falliti nel momento più importante. Non voglio mai più vedere la tua patetica faccia. Bellatrix. Sparisci. Padre. Ho fatto tutto per te. Se mi abbandonerai. No. Voglio ucciderlo. Brava. Così si fa un bel buco in mezzo alla pancia. Che lo sgonfi. Padre. No. Xavie. Perché l'hai fatto? Sei un imbecille. Non capisci nulla. Cosa? Xavie. Perché? Eh. Quello che mi chiedo anch'io. Perché? Perché sei scemo? Padre. Io non aspettavo altro che tu venissi a trovarci. Alla Sunshine Academy. Ah. È il momento della storia strappaballe. Lo so. Lo so che mi hai dato il nome di tuo figlio. Quello che hai perso. Rivelazioni. Io volevo solo. Volevo solo essere come un vero figlio per te. Xavie. Ecco bene. È arrivato il momento di portarla via. Dobbiamo portarla in ospedale. Sì. Ve ne prego. Salvatelo. Mi scongiuro. Non è vero mai. Eh ragazzi. Così è la vita. Lei aveva un figlio di nome Xavie. Ah beh. Mo l'ha detto. Ho fatto alcune ricerche. Morì dieci anni fa. Si chiamava Xavie Schiller. I bambini della Sunshine Academy. Li ho usati per il mio programma Soldato Supremo. Lui era uno di loro. Assomigliava a mio figlio. Ecco perché gli ho dato quel nome. Amava il calcio. Proprio come lui. Ma Xavie fu ucciso mentre si trovava in una scuola di calcio all'estero. Ucciso? Dagli atti risulta che si trattò di un incidente. Il responsabile era il figlio di un politico influente. Ho provato a fare luce sull'accaduto. Ma è stato inutile. Da allora ho iniziato a odiare il mondo. Ho perso il senno. Volevo scatenare una guerra e distruggere l'intero pianeta. Ciò che ho fatto a quel ragazzo è imperdonabile. Io invece l'ho sempre considerato solo come un tassello del mio piano. Beh, ad ogni modo, signor Schiller, bisogna andare via, in galera. Padre! Acquilina! Noi ti aspetteremo. Vedrai, io e Xavier ti aspetteremo, prometto. E loro ridono. Che c***o ti ridi? Che quella sta a piangere? Ecco, intanto qui il piano di Wiles dice Ha preso forma. Il mio piano è completo. Ecco, distruzione totale. Bravo. Plong! E quelle sono le pietre di Alyus. Quelle che appunto lui ha rubato. Ragazzi, mi sto un po' Sto un po' cocciso. Sto comodo. Mi metto comodo, scusatemi. Però io avrei un suggerimento. Fuggite da lì magari. Presto, dobbiamo andarcene. Mark, cosa fai? È finita. Ehi, cosa stai facendo? Bisogna fuggire. Anche tu muoviti, dai. Ma perché? Perché aiutarci? Che cosa stai dicendo? Puoi vivere, giusto? Forza, andiamo. Vuoi ancora giocare a calcio, vero? Ehi, cosa stai facendo? Ah superします. Ah. 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 un'esplosione del genere devasterebbe l'intero montefugi non è quel piccolo cratere no credetemi sarebbe molto più grande il calcio era salvo e potevamo ricominciare a giocare per divertirci nonno grazie per aver vegliato su di noi abbiamo battuto l'anius academy e il nostro viaggio si avvicina alla fine ma cosa ci aspetta alla raymond lo saprai nel prossimo capitolo uniti per sempre forza giochiamo a calcio il video termina qui è stato estenuante più degli altri giocarlo davvero ragazzi il prossimo episodio sarà l'ultimo quindi la serie si concluderà con 10 episodi originariamente dovevano essere 12 ma ho visto che è impossibile giocare con una squadra del genere davvero i personaggi sono troppo deboli ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito anche questo video in descrizione link per instagram e noi ci vediamo ovviamente al prossimo episodio che concluderà la serie bye 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 e e e e e e e e e